C'è un tweet che mi è capitato di leggere ieri sera, poco prima delle 21, che mi ha trafitto. Arriva da Luciano Nobili, chiedovenia, non sapevo chi fosse, che si descrive così. Deputato, direzione nazionale PD, presidente Open Goal EU, romano, romanista, riformista, al fianco di Matteo Renzi. Nella foto con cui si presenta c'è lui, Renzi di fianco che sorride sorgnone, e Federica Angeli, una giornalista coraggiosa che andrebbe un po' preservata anche da fotografie come queste. Scrive nel suo tweet Luciano Nobili, Non so cosa abbia bevuto stasera Bersani, ma è inaccettabile che si esprime in modo così offensivo verso il PD dopo aver contribuito pesantemente alla sconfitta del centro-sinistra a referendum e elezioni. Chieda scusa per le parole vergognose e per i danni che ha fatto. Dunque, in sostanza, il dirigente di fianco a Matteo Renzi ci tiene a farci sapere che la volatilità di un partito che sta andando a liquefarsi di giorno in giorno dipenderebbe da quel buon uomo, politicamente ben poco influente, di Bersani che avrebbe contribuito alla sconfitta, lui, di un referendum apocalittico e sbagliato, su cui quattro ceffi avevano scommesso di giocarsi tutto, salvo poi rimangiarsi le promesse. Però è nobile, nobili, perché incarna perfettamente la linea autodistruttiva di un pezzo del Partito Democratico che è rimasto incagliato su decisioni prese che non sono state condivise dagli elettori e che, secondo loro, dovrebbero dimostrarci quanto gli elettori siano una manica di cretini. Scemi! Continuano a urlare ogni piesso spinto e intanto chiedono agli scemi di tornare a votarle. Dare del cretino a chi sceglie la concorrenza deve essere un nuovo modello di marketing. Geniale, tra l'altro. Non c'è che dire. Bravi tutti. Così come appare chiaro nel tweet questo voler rappresentare un centro-sinistra senza riconoscere di avere aperto la strada alla destra. E siccome so che tra i commenti poi qui sotto andrà a finire così, questo giochetto per cui criticare il PD sarebbe un favore a Salvini non funziona. È un po' come quella storiella della merda che puzza un po' meno e allora avrebbe diritto di essere rivenduta come cioccolato. Non funziona. Un consiglio da amico. Lasciate perdere i social compulsivi e imparate a fare elaborazione politica seria, impegnata, strutturata. Lasciate perdere il grellismo declinato fintamente a sinistra. Lasciate perdere di fare la destra che si finge di sinistra. Rinchiudetevi. Rinchiudeteli. Studiate. Fate i seri. Ne guadagniamo tutti. Smettetela di inventarne uno al giorno per non farvi votare. Buon venerdì.